La festa del lavoro o festa dei lavoratori viene celebrata il primo maggio di ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare la lotta dei lavoratori per la riduzione della giornata lavorativa. La festa ricorda le battaglie operaie, in particolare quelle volte alla conquista di un diritto ben preciso, l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore, in Italia con il RDLN. 692-1923. Tali battaglie portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata nel 1867 nell'Illinois. La prima internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa. La sua origine risale a una manifestazione organizzata a New York il 5 settembre 1882 dai Kniggets of Labor, un'associazione fondata nel 1869. Due anni dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione i Kniggets of Labor approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza annuale. Altre organizzazioni sindacali affiliate all'internazionale dei lavoratori, vicine ai movimenti socialisti ed anarchici, suggerirono come data della festività il primo maggio. Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei primi giorni di maggio del 1886 a Chicago e conosciuti come rivolta di I-Market. Il 3 maggio i lavoratori in sciopero di Chicago si ritrovarono all'ingresso della fabbrica di macchine agricole M-Cormic. La polizia, chiamata a reprimere l'assembramento, sparò sui manifestanti uccidendone due e Ferendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine gli anarchici locali organizzarono una manifestazione da tenersi nella I-Market Square, la piazza che normalmente ospitava il mercato delle macchine agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando da una traversa fu lanciata una bomba che provocò la morte di sei poliziotti e Ferendone una cinquantina. A quel punto la polizia sparò sui manifestanti. Nessuno ha mai saputo né il numero delle vittime né chi sia stato a lanciare la bomba. Fu il primo attentato alla dinamite nella storia degli Stati Uniti. Il 20 agosto 1887 fu emessa la sentenza del Tribunale, August Spies, Michael Schwab, Samuel Fjelden, Albert R. Parsons, Adolf Fischer, George Angel e Luis Lind furono condannati a morte, in seguito a pressioni internazionali la condanna a morte di Fjelden e Schwab fu commutata in Ergastolo, il cancelliere Otto von Bismarck proibì tutte le manifestazioni in favore degli accusati di I-Market, Oscar W. Neve a reclusione per 15 anni. 8 uomini condannati per essere anarchici, e 7 di loro condannati a morte. L'11 novembre 1887 furono impiccati a Chicago. Le ultime parole pronunciate furono. Spies, salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più forte delle voci che oggi soffocate con la morte. Fischer, Oc die anarchie. Viva l'anarchia. Angel, urrà per l'anarchia. Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì appena a parlare, perché il boia strinse immediatamente il laccio e fece cadere la trappola. Le sue ultime parole furono queste, lasciate che si senta la voce del popolo. L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la festa del primo maggio avrebbe potuto costituire un'opportunità per commemorare questi episodi. Successivamente, temendo che la commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della festività sull'antica organizzazione dei cavalieri del lavoro. Pochi giorni dopo il sacrificio dei martiri di Chicago, i lavoratori di Chicago ottennero un'imponente manifestazione di lutto, a prova che le idee socialiste non erano affatto morte. Appena si diffuse la notizia dell'assassinio degli esponenti anarchici di Chicago, nel 1888, il popolo livornese si rivoltò prima contro le navi statunitense ancorate nel porto, e poi contro la questura, dove si diceva che si fosse rifugiato il console degli Stati Uniti. La data del primo maggio fu adottata in Canada nel 1894 sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce di lavoratori tenute a Toronto e ottava nel 1872 e più tardi in quasi tutti i paesi del mondo. In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e ratificata in Italia due anni dopo. La rivista La Rivendicazione, pubblicata a Forlì, cominciava così l'articolo per primo maggio, uscito il 26 aprile 1890, il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento. Tra le prime documentazioni filmate della festa in Italia, il produttore cinematografico Cataldo Balducci presente il documentario Grandiosa Manifestazione per il primo maggio 1913 ad Andrea, indetta dalle classi operaie, che riprende la festa in sette quadri, e si può, così, vedere il corteo che percorre le strade affollate della città, gli uomini, tutti con il cappello, seguono la banda che suona, con alcune bandiere. Durante il ventennio fascista, a partire dal 1924, la celebrazione fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, divenendo per la prima volta giorno festivo con la denominazione Natale di Roma, festa del lavoro. Fu poi riportata al primo maggio dopo la fine del conflitto mondiale, nel 1945, mantenendo lo status di giorno festivo. Nel 1947 la ricorrenza venne funestata a portella della Ginestra, Palermo, quando si suppone che la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa 2000 lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina. Altre fonti sostengono che tale sparatoria fu organizzata dai servizi segreti, al fine di poter accusare e screditare agli occhi dei cittadini Salvatore Giuliano con la sua banda. Il primo maggio 1955 Papa Pio XII istitui la festa di San Giuseppe Lavoratore, perché tale data potesse essere condivisa a pieno titolo anche dai lavoratori cattolici. Dal 1990 i sindacati confederali CGL, Cisle e Will, in collaborazione con il Comune di Roma, organizzano un grande concerto per celebrare il primo maggio, rivolto soprattutto ai giovani, si tiene in piazza San Giovanni, dal pomeriggio a notte, con la partecipazione di molti gruppi musicali e cantanti, ed è seguito da centinaia di migliaia di persone, oltre a essere trasmesso in diretta televisiva dalla RAI. Il tradizionale corteo, sempre più trascurato dai sindacati, viene ancora organizzato e largamente partecipato da Lotta Comunista, partito politico extraparlamentare, che celebra il primo maggio internazionalista con manifestazioni di piazza, a Genova, Milano, Torino, La Spezia e Brescia, e iniziative pubbliche nelle città dove è presente come formazione politica organizzata. Buona festa del lavoro a tutti!